camaro ultima novità di casa maver un prodotto top di gamma prodotto in italia telaio a quattro zampe pedana molto stabile e panchetto che ha tra le sue caratteristiche principali la leggerezza infatti rispetto al modello precedente stato alleggerito di almeno due chili e mezzo è un prodotto di altissima qualità come potete vedere la sua seduta è diversa è la migliore che si possa trovare in commercio perché evita i fastidi alla schiena è molto comoda in più le generose dimensioni permettono anche a chi non è magro come me di stare comodo sul panchetto da pesca ha le zampe di 36 millimetri di diametro e la maver fornisce tutti gli accessori disponibili oggi sul mercato